Benvenuti di nuovo a Comonext, oggi parleremo appunto di Metaverso e lo affronteremo legato al tema della manifattura, questa è un po' l'agenda della giornata per cui dovrete aspettare un'oretta circa prima dell'aperitivo, ma oltre all'aperitivo avrete anche la possibilità di provare di toccare con mano il Metaverso o le tecnologie che lo abilitano e ci ritroveremo sopra il bar, per cui sopra il bar ci sarà l'area dimostrativa e avremo la possibilità di fare networking e bere qualcosa tutti insieme. Prima parleremo appunto delle tecnologie, lo faremo io e Ivan introducendo il concetto di Metaverso generico e poi quello più interessante credo per voi rispetto ai temi della manifattura, per poi dare la parola a tre aziende del parco che stanno sviluppando e che stanno investendo su realtà aumentata, realtà virtuale e sul digital twin e quindi la capacità della linea di produrre dati che poi vengono interpretati e messi a disposizione attraverso quelle tecnologie. Ci sarà poi l'intervento dell'avvocato Vitaliano che farà un escurso sui temi del diritto e di come l'interpretazione giuridica sta gestendo tutta questa parte di novità che ovviamente ha delle implicazioni sulla vita quotidiana di tutti noi ma anche delle implicazioni ovviamente all'interno delle aziende e finiremo con il classico Q&A, se qualcuno avrà delle domande da porci ovviamente noi siamo qui per rispondere a tutto quello che ci verrà sottoposto. Per cui partiamo rispetto a una definizione di Metaverso che genericamente io utilizzo per introdurre il concetto, per cui che cos'è il Metaverso? Il Metaverso è una rappresentazione virtuale in cui noi utilizziamo degli avatar, quindi una rappresentazione virtuale dei singoli individui per interagire tra di noi. Avatar ovviamente che sono personalizzabili. Introduciamo anche un primo, scusate a basso perché se no rischiamo di non sentire più niente, un primo concetto di Metaverso, un primo esempio che è quello di Sandbox, per cui in questo video potete capire e iniziare a familiarizzare con un Metaverso che sta vivendo e che ha tutte le caratteristiche intrinseche di una persona che viene rappresentata da un avatar e che inizia interagire con altre persone perché crea eventi, acquista delle strade piuttosto che costruisce delle case e inizia a interagire con il mondo virtuale e con le altre persone che sono inserite all'interno di questo Metaverso. Quindi capite bene che rispetto alla manifattura siamo lontani, siamo lontani rispetto al concetto che riguarda la fabbrica e che possiamo considerare come rilevante per noi. Ok, per cui questa è una rappresentazione grafica di come i brand si stanno disponendo rispetto a due tecnologie rilevanti che sono quelle della blockchain e quella della capacità di rappresentare il Metaverso con tecnologie di realtà virtuale piuttosto che no, per cui come potete leggere ci sono tantissimi brand che sono vicini al mondo dei videogiochi, per cui trovate Roblox piuttosto che Fortnite e il tema ludico all'interno del Metaverso è fortissimo perché è quello il mondo in cui si sta sviluppando realmente, per cui il Metaverso adesso è molto legato al tema dei videogiochi. Ma ci sono anche altri tipi di Metaverso che si stanno sviluppando come quello di Special che in realtà inizia a porsi come obiettivo quello di creare degli eventi, il tema del volume nel Metaverso è un problema, degli eventi in cui è possibile mostrare delle opere d'arte, interagire con queste opere, acquistarle attraverso NFT, creare eventi di nuovo e come vedete interagire con altre persone. sono esperienze che ancora però non ci hanno portato a identificare il Metaverso come un mondo in cui è possibile sviluppare tutto ciò che si vuole. Il tema del Metaverso nasce sostanzialmente in questo periodo perché? Perché l'evoluzione tecnologica ci consente di utilizzare dei visori che prima non erano disponibili, per cui le tecnologie ci danno accesso a visori veloci, con capacità di calcolo fortissime e con connessioni che ci permettono di interagire con altre persone. L'altro tema è quello dell'interazione umana, per cui le nuove generazioni non gradiscono più solo un'interazione attraverso il testo piuttosto che le immagini. Hanno bisogno di interagire con dei video, con rappresentazioni grafiche più evolute, con il 3D, perché hanno bisogno di vedere come le altre persone reagiscono di fronte a certi stimoli, quindi come cambiano per esempio le espressioni del volto, come si muovono all'interno dello spazio. Ma perché qualcuno ci sta investendo così tanto come Meta? Perché ovviamente ha degli interessi fortissimi. Questo è il grafico che rappresenta come le persone nel mondo stanno utilizzando le diverse piattaforme, per cui non ci dobbiamo sorprendere che Meta stia investendo così tanto. Per cui nelle prime quattro posizioni tre brand appartengono sostanzialmente a Meta, per cui Facebook, Whatsapp e Instagram, insieme a Facebook Messenger, hanno una copertura mondiale che solo Facebook arriva ad essere di 3 miliardi di utenti unici. Per cui se loro non anticipassero i tempi e quindi non prevedessero che cosa andrà a succedere tra poco tempo, ovviamente perderebbero tantissima base e tantissimi utenti che molto probabilmente utilizzerebbero altre modalità di interazione. Per cui il tema è per Meta, anticipiamo la tecnologia, anticipiamo i trend, perché se no rischiamo di perdere questo tipo di utenti. Le applicazioni invece spostate verso l'industria o comunque verso attività di business sono tantissime, ma soprattutto riguardano le tecnologie abilitanti, per cui realtà aumentata in realtà virtuale applicate ai temi della formazione dove è possibile attraverso queste tecnologie formare le persone e dare loro l'esperienza molto più viva e efficace rispetto a quella che verrebbe invece in un'aula con una persona che insegna agli altri che cosa dovrebbero fare. Della manifattura ovviamente parleremo, avremo degli esempi sul retail, nel mondo del mercato immobiliare di KR sta investendo per esempio per dare la possibilità ad un'azienda di presentare ovviamente le offerte attraverso le tecnologie abilitanti, quindi realtà virtuale e a volte anche realtà aumentata. Il grosso problema di questa tecnologia al momento è l'interoperabilità, ossia la possibilità che quei metaversi che avete visto possano dialogare tra loro, per cui il mio avatar e la mia esperienza digitale non può essere trasportata tra il metaverso di Facebook con quello che arriverà di Apple ancora, per cui non c'è questa possibilità di portare il nostro bagaglio digitale da un mondo ad un altro, per cui questo è un tema che dovrà essere superato affinché il metaverso si diffonda e diventi comune come mezzo di comunicazione e di esperienza. Sostanzialmente siamo in una fase in cui ci troviamo di fronte a un proto metaverso, per cui siamo di fronte a un metaverso che è il web negli anni 90, per cui siti non ancora come ce li aspettiamo e come dovrebbero essere, siamo di fronte ad esperienze che devono essere migliorate, ci sono degli aspetti etici che devono essere affrontati come li si affrontava negli anni 90, per cui ci si chiedeva se il web fosse un canale di comunicazione, un mezzo efficace per fare l'e-commerce, non era ancora chiaro se tutti i temi che noi adesso diamo per scontato fossero stati superati. E il tema della regolamentazione è un tema che deve essere risolto e l'avvocato oggi ci chiarirà alcuni di questi aspetti. Rispetto all'AIP che stiamo vivendo, dove siamo? Questo è un grafico per chi mastica di tecnologia abbastanza famoso, per cui è il ciclo della tecnologia che normalmente ciascuna di essi affronta prima di diventare una tecnologia comune e sviluppata. Per cui a inizio, anzi a metà del 2022, il metaverso era nella sua fase sostanzialmente iniziale con un'aspettativa perché diventasse una tecnologia ormai digerita e pronta per essere posta sul mercato di circa dieci anni. Per cui diciamo mediamente una realtà assolutamente plausibile. Per darvi un'indicazione, l'intelligenza artificiale generativa era ancora più in basso rispetto al metaverso, per cui in una fase molto più embrionale di crescita. Oggi invece la situazione è completamente diversa, per cui il metaverso ha superato addirittura quella fase di picco dell'AIP tecnologica. Siamo in una fase in cui non c'è più l'interesse che c'era prima, ma le tecnologie sono rimaste e la possibilità di utilizzare questa tecnologia assolutamente c'è. Nel contempo l'intelligenza artificiale ha raggiunto il picco di AIP perché tutti ne stiamo parlando e forse l'aspettativa di sviluppo posta su cinque e dieci anni invece adesso è molto più breve e sarà pronta come tecnologia disponibile per tutti, anzi forse lo è già, in questo momento e abbiamo superato i tempi che erano stati previsti nel 2022. Per chiudere, un'altra considerazione rispetto a che cosa succederà a giugno, per cui questa immagine è un po' esemplificativa di quello che succederà, per cui Apple molto probabilmente a giugno presenterà il nuovo visore che aprirà di nuovo un contesto completamente diverso perché quando Apple lancia un prodotto lo fa in maniera massiva con delle caratteristiche uniche e spesso, come è successo con l'iPhone, apre un nuovo modo per interagire con quella tecnologia e accelererà quei tempi che abbiamo visto prima essere di circa dieci anni. Io vi ringrazio per adesso e lascio la parola a Ivan Parisi che ci parlerà del contesto del metaverso applicato alla fabbrica e quindi di industria al metaverso. Grazie Max. Allora, come ha detto, a me spetta il compito di introdurre il metaverso nel mondo industriale, quindi sarà una breve presentazione delle caratteristiche principali che serve per introdurre poi gli interventi che mi precederanno che sono invece molto più specifici su casi e su applicazioni. Quindi partendo un po' dalla storia, quindi lo stato dell'arte dice che una ventina d'anni fa già nascevano i primi simulatori che permettevano di progettare impianti nuovi, macchine nuove, quindi il loro scopo era proprio quello di verificare la bontà di un progetto, quindi la fattibilità di un progetto. Nel tempo si è evoluto, quindi non solo sull'aspetto funzionale, ma anche sull'aspetto proprio fisico, inteso come dimensioni, quindi verificare che l'impianto all'interno, diciamo, dello spazio previsto oppure quanto spazio ci serviva per realizzare quell'impianto fosse realizzabile. Quindi si è aggiunta su una progettazione ormai tridimensionale la quarta dimensione, che è il tempo, quindi per verificare le prestazioni. Qui ne vediamo un esempio, quindi dove è possibile proprio far vedere gli oggetti che si muovono, come avverrebbe nel caso reale, e quindi il progettista aveva modo di verificare effettivamente la bontà della sua soluzione. Normalmente questo tipo di software, questo tipo di applicazione, terminava la sua funzione nella fase proprio di progettazione, quindi dopodiché l'impianto veniva realizzato e quella simulazione, nella maggior parte dei casi, non sempre, diciamo, non veniva più utilizzata. Grazie, diciamo, a Industria 4.0 e alle tecnologie abilitanti, quindi all'IoT, all'Internet of Think e al Machine Learning, diciamo, si è permesso a questi simulatori di non terminare la loro vita nella fase di progettazione, ma anche seguire, affiancare la realizzazione fisica dell'impianto, quindi collegarlo, collegare la simulazione fisicamente all'impianto, alla macchina realizzata. Quindi creare quello che è il modello digitale, il gemello digitale, quindi il Digital Twin. Altro passaggio, quindi altra tecnologia, aggiungendo al Digital Twin l'intelligenza artificiale, e con tutto quello che si porta dietro l'intelligenza artificiale, possiamo arrivare in una simulazione ancora molto più avanzata, e quindi possiamo parlare di Industria Metaverso. Quindi l'Industria Metaverso, che cos'è? Sono un particolare metaverso, quindi con caratteristiche un pochettino leggermente diverse da quelle che abbiamo visto magari negli ambiti che magari sono un po' più conosciuti, un po' più noti, adesso almeno. Alla fabbrica, quindi tutti i processi, senza distinzione, e alla logistica. In quali comparti, diciamo, segue il processo a 360 gradi, quindi dalla progettazione, diciamo anzi, possiamo anche aggiungere dalla vendita, quindi da uno strumento nuovo alle aziende, quindi per poter anche proporre i propri prodotti attraverso magari il metaverso, quindi questi strumenti di simulazione, su tutte le fasi di progettazione, come abbiamo già visto, con strumenti già a disposizione delle aziende da almeno una ventina d'anni, fino ad arrivare appunto alla formazione, all'assistenza, come accennava prima Max, con la realtà aumentata, la realtà virtuale. Quindi, con l'industria del metaverso, è possibile cominciare ad avere degli scenari molto realistici, dove non è più solo possibile, come avete visto prima nella simulazione, vedere l'impianto come viene realizzato, ma si può cominciare a navigare all'interno dell'impianto, quindi dare possibilità agli utenti, nelle varie fasi, che possono essere, diciamo, gli utenti che concorrono, quindi le aziende che concorrono alla realizzazione, non so, di un impianto, e quindi si propongono magari per i loro prodotti, piuttosto che l'utilizzatore finale, che gli serve per andare a verificare la bontà delle soluzioni proposte, e quindi all'interno di un ambiente simulato. Qui vediamo un esempio, quindi prima si citava che oggi è con la capacità, l'aspetto dell'evoluzione soprattutto hardware, quindi con le GPU, quindi questi processori che sono in grado di poter gestire, avere una grande capacità computazionale, quindi gestire anche queste simulazioni molto avanzate, è possibile realizzare questi scenari diciamo molto realistici, quindi possono, veramente si può far fatica anche a distinguerli dalla realtà, ma non è questo, diciamo, lo scopo del metaverso, comunque si creano degli ambienti digitali, dove all'interno dei quali possiamo vedere realmente quello che succede, quindi in tutte le sue fasi, diciamo, di produzione, qui vediamo già una linea realizzata, quindi una linea che già funziona, ma immaginiamoci questa linea che deve essere ancora realizzata, quindi un capannone vuoto, che viene messo a disposizione dall'azienda che deve realizzare questa linea, e all'interno del quale le aziende che vogliono partecipare alla vendita magari di queste parti che compongono, queste singole parti che compongono questa linea, incominciano a proporre, inserire le loro soluzioni in questi spazi, quindi si incominciano a fare delle interconnessioni con altri, altri, diciamo, attori, ecco, di questa iniziativa. Io ho avuto spesso discussioni con Ivan riguardo alla definizione di Industrial Metaverse, per cui per me questo non è metaverso, e ricordate un po' la definizione che vi avevo dato, e spesso discutiamo davanti al caffè rispetto a che cos'è in realtà questo. Questa è per me una tecnologia abilitante come la realtà virtuale, per cui per il consumatore finale il metaverso, credo l'abbiate capito, è qualcosa di completamente diverso, per cui i ragazzini si aspettano di interagire tra di loro con un avatar, di vivere un'esperienza completamente immersiva per dialogare, per guardare opere d'arte, per cambiare il vestito, per utilizzare qualcosa da mostrare a qualcun altro. Questo, dal punto di vista consumer, è una tecnologia abilitante al metaverso che viene applicata in un contesto industriale. Ovviamente Ivan ha un'opinione diversa. Sì, immaginiamoci il ragazzo, il giovane che vuole comprarsi la sua auto, già oggi l'auto che noi compriamo, non è l'auto che andiamo al concessionario, vediamo e acquistiamo, ma è un'auto che ordiniamo e la casa automobilistica la costruisce su misura, sulle nostre esigenze con la configurazione che abbiamo fatto. Quindi può vedere la sua auto che viene costruita, la sceglie, magari sceglie direttamente, ecco su un'interfaccia come può essere questa, la sua auto e quindi può tecnicamente anche provarla, simulando magari una user experience di com'è l'abitacolo, come la vive, come se le sue scelte sono quelle, diciamo, giuste. Quindi iniziamo a parlare di tecnologie abilitanti e di come appunto la manifattura possa beneficiare in questo caso della realtà virtuale e passo la parola a Luca Ferrari di DKR che farà un affondo su questo tipo di tecnologie. Perfetto, grazie mille. Allora, più tardi avremo la possibilità poi di provare il visore. Il visore è uno strumento interessante nel senso che abilita a sua volta una serie di tecnologie, tre principalmente, che adesso vedremo. Queste tecnologie in realtà poi possono essere usate anche senza un visore, anche questo vedremo. Cercherò in dieci minuti di portarvi un po' di casi pratici per cui parlare di tecnologie abilitanti e abilitate e vedere cosa ci si può fare appunto nei più svariati contesti, da quello industriale a quello più legato al marketing. Una delle tecnologie che vedremo dopo, parto da quella più semplice, più basica, sono la tecnologia dei video 360. Voi ormai da 15 anni usate Google Street View e quindi sapete cos'è una fotocamera 360, quindi una foto in cui con le frecce io posso girare e avere una panoramica 360. Ecco, la stessa tecnologia proiettata in video è qualcosa di molto semplice ma in molti casi defetto. Perché questo defetto? Perché una telecamera 360 è grande più o meno come questo telecomando. Io la posso tenere in mano così o mettere su un treppiede, su un bastone, eccetera. E visto che prima si parlava di contesto immobiliare, io posso fare il giro di una casa con una fotocamera 360 in mano, effettuare quindi la mappatura a 360 gradi dell'appartamento e quindi far sì che se io voglio mettere in affitto casa mia, anziché costringere ogni volta le persone potenzialmente interessate a mettersi d'accordo con me, perdere del tempo, spostarsi, eccetera, eccetera, loro possono vedersela comodamente da casa loro o dalla showroom dell'agenzia immobiliare a cui ho dato in affidamento la casa e capire già da loro come è fatta a casa mia, come sono gli spazi, eccetera. Poi se veramente sono interessati vengono a vederla. Questo è un esempio, ovviamente può essere fatto per dimostrare com'è una linea produttiva, com'è fatto un capannone, insomma per rappresentare in maniera molto semplice com'è fatto un luogo fisico. Sempre sulla stessa logica, quindi parlando non di mondi virtuali ma di luoghi fisici reali, video ripresi, c'è una molto interessante tecnologia delle fotogrammetrie, sempre dopo la proveremo. La proveremo proprio con un punto del Grand Canyon che è molto famoso e qui raffigurato, cosa è stato fatto? È stato preso sempre una telecamera 360 che quindi ha fatto una panoramica a 360 gradi del territorio, è stata però sovrapposta questa una nuvola di punti scansionata con un sensore LiDAR, LiDAR ormai sono inclusi anche negli iPhone di fascia alta, sono delle specie di rilevamento radar in cui lui mi rileva lo spazio circostante, quindi manda un segnale, vede come viene riflesso il segnale, facendo questo riesce a disegnare gli spessori, capire che lì ci sono delle colonne, che qua c'è qualcosa che ingombra, che poi sono le sedie eccetera eccetera. Ecco sovrapponendo l'acquisizione video a questi sensori che danno la profondità si riesce a generare un ambiente navigabile, infatti dopo vedremo che io con il visore indosso posso camminare in questo spazio e avere veramente la percezione di essere là, perché se cammino il contesto si muove come se io mi muovessi qua e vedessi il contesto che si muove, quindi queste sono tutte tecnologie abilitate molto interessanti nel senso che lascio a voi la fantasia di immaginarvi gli utilizzi più o meno illimitati. Poi ovviamente applicazioni in realtà virtuale, quindi chiaramente col visore io posso, prima parlavamo di realtà, quindi riprendo la realtà e la ricostruisco pari pari, quindi l'acquisisco e la metto a disposizione del visore. Qua invece la disegno al computer, la realtà, un po' come quello che abbiamo visto nell'industria del metaverso in cui era una riproduzione ovviamente disegnata di una realtà. Può essere verosimile, quindi può essere la riproduzione del luogo fisico, può essere totalmente fantasiosa, qua vediamo qualche esempio che ne abbiamo fatto direttamente, quello in basso a destra è ovviamente un videogioco che riproduce un ambiente che non esiste in realtà, eccetera. Vabbè, qui abbiamo già più o meno detto cose. Abbiamo parlato appunto con Max che cos'è il metaverso, l'abbiamo già descritto nel primo appuntamento, per cui sostanzialmente, tecnicamente, se si vuole essere rigidi rispetto alla definizione, si può definire metaverso quando si ha l'interazione delle rappresentazioni di virtuali di più persone contemporaneamente nel medesimo ambiente virtuale. Perché può essere interessante per esempio fare una videocall nel metaverso anziché una chiamata Teams con le webcam, perché ad esempio se io sono un'azienda manifatturiera che produce telecomandi, una cosa è proiettare al mio cliente una presentazione PowerPoint in cui faccio vedere in maniera bidimensionale il telecomando. Un'altra è fare una videocall in cui io e il mio interlocutore a mille chilometri di distanza indossa un visore, ciascuno dei due vede l'oggetto 3D a sua disposizione, lo può prendere in mano virtualmente, analizzare la dimensione, come riflette la luce, eccetera. Perché tanto ormai per produrre questo sempre io passo da un modello tridimensionale, quindi un modello 3D sempre ce l'ho a disposizione, quindi ovviamente con i visori posso anche farlo vedere in maniera più soddisfacente all'interlocutore. Vado un po', sì, in realtà molto brevemente, parliamo di visori, dopo vedremo semplicemente il visore, poi c'è una serie infinita di sensoristica aggiuntiva, tipo guanti aptici, giubbotti sensoriali, eccetera, eccetera, che io volendo potrei aggiungere, per cui per esempio se devo fare formazione a un operaio che deve magari lavorare in un ambiente pericoloso e deve imparare a maneggiare sostanze pericolose con un guanto aptico io posso riprodurre esattamente il feedback tattile che produrrà la sostanza, eccetera, e in un ambiente protetto posso creare una simulazione perfetta della fabbrica, farlo esercitare e anche con logica di gamification dare un punteggio a come lui si è comportato, eccetera, e segnalarli dove avrebbe corso un rischio nel mondo reale, eccetera, per esempio. Ambiti di interesse, velocemente, allora prima si parlava appunto di Digital Twin, Digital Twin è appunto la riproduzione virtuale fedele a qualcosa che c'è realmente, quindi a una linea di produzione come abbiamo visto prima, ma immaginate a qualcosa che io non potrei monitorare fisicamente, tipo la rete ferroviaria italiana o la rete di distribuzione dell'energia elettrica o un acquedotto, ovviamente io non posso vedere, una linea di produzione magari posso andare in stabilimento e vedere la linea integralmente, l'acquedotto di Milano non lo posso vedere integralmente, ecco, quindi capita bene che poter indossare un visore, avere la riproduzione virtuale dell'acquedotto, avere magari degli alert che grazie a sensori diffusi sul territorio, di cui poi ci sarà un affondo da parte dell'altro Luca su questo, quindi sensori sul territorio catturano dati, e tramite la realtà virtuale io li rappresento in una maniera molto più efficace, molto più espressiva, e quindi che consente per esempio all'operatore che deve gestire la manutenzione di rendersi conto in molto meno tempo dove c'è un problema e intraprendere azioni per risolvere questo problema. Qui salto perché abbiamo detto, dopodiché come vi dicevo prima, oltre a la realtà virtuale e tutte le tecnologie di cui vi ho molto brevemente accennato adesso, aprono la porta più o meno a utilizzi infiniti. 3D commerce, quindi l'e-commerce in 3D, quindi col vantaggio di, ok, io afferro la botte, sono in un, posso riprodurre che so, un supermercato virtuale, quindi cammino effettivamente fra gli scaffali, vedo effettivamente N prodotti, afferro l'olio di liva come se fossi nel punto vendita fisico, ma il vantaggio rispetto al punto vendita fisico è per esempio che mi appaiono in sovraimpressione informazioni legate alla tracciabilità, mi appare un filmato dell'agricoltore che ha colto proprio quell'olive, insomma, anche poi a livello di marketing, cioè si può inventare la qualunque. Eventi sportivi, ovviamente io posso mettere una videocamera 360 in prima fila a San Siro durante il derby e quindi magari non ho avuto la possibilità di andarci perché abito lontano, eccetera, però pago un biglietto magari più ridotto rispetto all'evento fisico e posso comunque vedere l'oggetto e con la comodità che girandomi vedo effettivamente gli spalti, eccetera, cioè in maniera immersiva, come se fossi lì, concerti, film, medicina, riabilitazione, psicologia, anziani e disabili, altro tema interessante, noi parliamo sempre di riprodurre le esperienze, c'è qualcuno che per ragioni fisiche non può vivere delle esperienze, con la realtà virtuale io posso consentirgli comunque di fare delle esperienze. Per il mondo immobiliare, ne abbiamo detto prima, abbiamo parlato per esempio degli appartamenti che già ci sono, della comodità di poter in un'ora di tempo vedere 20 appartamenti senza dover viaggiare per Milano, potrei vedere anche una casa che non esiste, quindi il rendering 3D che oggi l'architetto fa in AutoCAD Revit anziché usarlo per generare delle immagini stampate, io lo posso acquisire e renderlo navigabile, quindi indosso il visore e cammino in casa mia prima ancora che casa mia venga realizzata e quindi mi rendo conto che la cucina invece che lì, lavorerei lì, parlo con l'architetto, eccetera, eccetera. Adesso ho l'impressione di stare andando un po' lungo, quindi perfetto, sono l'ultima slide, taglio e non porto via più tempo, grazie. Luca, stiamo lavorando su alcuni progetti all'interno di Comonext che riguardano la realtà virtuale e che riguardano rappresentazioni di fabbriche all'interno della provincia di Como perché i clienti ci stanno chiedendo la possibilità di riprodurre queste fabbriche, quindi la linea per clienti che evidentemente non possono entrare perché sono all'estero, perché vogliono capire come funziona la manifattura, come il filato per esempio passi attraverso le macchine per poi uscire finito. Per cui per contestualizzare rispetto al nostro territorio ci stanno chiedendo diverse realtà del tessile di sviluppare questo tipo di applicazione con la realtà virtuale. Grazie Max, mi ero completamente dimenticato di toccare questo punto interessante. Pensate a un contesto fieristico, nei contesti fieristici ad esempio la realtà virtuale spesso fa la differenza, anche solo perché se io vedo in lontananza uno stand in cui c'è della gente con i visori che sta facendo qualcosa, di cui tipicamente poi riproduco su un maxischermo quello che sta venendo, io genero molta curiosità e quindi come giustamente ha detto Max, c'è per esempio questa applicazione che stiamo sviluppando per una tessitura in cui chi va in fiera ha la possibilità di visitare il loro stabilimento, percepire quello che c'è dietro, quindi in fiera vede il pezzo fisico, il tessuto che è stato prodotto. Indossa il visore e vede come è stato prodotto questo visore, questo tessuto e può in prima persona ripercorrere tutti gli step di lavorazione, tutti i macchinari attraverso cui è dovuto passare per realizzare questo tipo di contenuto. Quindi contesti fieristici, eccetera, sono molto interessanti. Chiudo facendo un ultimo caso che mi è venuto in mente perché prima avevo detto che la realtà virtuale ha la sua massima espressione ovviamente con un visore, perché il visore è immersivo. In realtà può essere usata anche senza il visore. C'è un caso in cui uno dei più grandi produttori mondiali di ascensori aveva la necessità di, che so, c'è l'architetto che sta progettando il Burj Khalifa a Dubai, deve dotarlo di un ascensore, tipicamente c'è un venditore che dalla Germania o da altre nazioni vola fino a Dubai per fargli vedere un catalogo, eccetera, e poi di solito l'architetto, se gli interessa, vola in Germania per entrare nei prototipi di ascensori. Ecco, non è un processo esattamente efficiente. Presto, cosa potranno fare grazie all'applicazione che stiamo realizzando? Il venditore di Dubai va direttamente a Dubai con un tablet e può in diretta, insieme al cliente, personalizzare con lui, in questo caso è l'ascensore, ovviamente potrebbe essere la qualunque, grazie all'utilizzo di realtà virtuale, quindi vedere se metto la radica per terra e se metto la maniglia con le finiture e non so cosa, come verrà effettivamente il prodotto finito. Quindi ovviamente per la rappresentazione, quindi anche per la supporto della rete vendita, in questo caso produce un risparmio enorme nei costi di vendita e anche una comodità per il cliente finale. È chiaro che poi il cliente finale, una volta che ha deciso, vorrà comunque vedere una campionatura fisica, giustamente, però io virtuale gli posso far vedere 100 campionature, una cosa che non potrei ripercorrere, quindi vi ho fatto l'esempio dell'ascensore ma applicatelo al vostro ambito di interesse. Con la realtà virtuale è molto economico produrre campionature, eccetera, ne posso produrre una quantità infinita e poi fare nel mondo fisico solo quelle realmente interessanti per il cliente. Adesso mi taccio davvero. Grazie mille Luca, spero che alcune suggestioni stiano iniziando a passare anche in maniera concreta su come questo tipo di tecnologie possano essere applicate anche nei vostri contesti. E adesso Simone Soggio di Xpo ci parlerà della seconda tecnologia abilitante, per cui della realtà aumentata. Grazie Max, dunque prima di passare casi applicativi e degli esempi concreti, ci tengo a precisare un po' qual è il vantaggio, il valore della realtà aumentata, perché questa tecnologia effettivamente dovrebbe essere adottata in alcuni processi, soprattutto aziendali, industriali. Dunque dovete vedere la realtà aumentata come una nuova interfaccia, un nuovo modo di visualizzare le informazioni che provengono dal digitale. Un tempo usavamo grandi schermi, adesso i laptop permettono di avere uno schermo integrato, gli smartphone hanno integrato e in qualche modo unito quella che è la tastiera, il mouse e lo schermo nello stesso oggetto. In futuro tutto questo sarà smaterializzato e quindi la realtà aumentata sarà la nostra interfaccia e quindi quello che ci permetterà di accedere al cloud, alle informazioni, alle mail e alle chat con i nostri amici. Quindi dimenticandoci anche dell'ultimo oggetto fisico che ancora un po' dà fastidio in alcuni momenti. E quindi il valore della realtà aumentata è quello di contestualizzare l'informazione che proviene dal mondo digitale. Quindi a tutti voi sarà capitato di utilizzare il navigatore in auto e nonostante uno strumento digitale estremamente preciso e accurato, ci dicesse dove andare e quindi che direzione prendere, siamo riusciti a sbagliare strada. Questo perché? Perché c'è proprio una distanza cognitiva che il nostro cervello fa fatica a processare tra quelle che sono le informazioni che provengono dal mondo digitale e quello che è invece il contesto reale. Quindi la differenza che c'è tra una mappa riportata digitalmente, quindi se vogliamo perfetta, con strade e incroci, rispetto invece a quello che è la strada reale con pedoni che passano o lavori in corso. E quindi la differenza tra quella che è una visualizzazione digitale e una visualizzazione in realtà aumentata è proprio questa, contestualizzare l'informazione digitale direttamente sull'ambiente che ci circonda. E questo quindi permette di facilitare la comprensione delle informazioni. Vediamo come questo può facilitare, semplificare le attività nel mondo manifatturiero. Dapprima vediamo un esempio sulla progettazione, quindi progettare un nuovo prodotto oppure discutere delle modifiche su un componente industriale. Ecco che rispetto a quello che può essere un modello 3D progettato in CAD, dove si ha difficoltà a comprendere le dimensioni reali e quindi anche a condividere queste informazioni con fornitori, clienti o altri dipartimenti nel mondo. Quindi abbiamo sviluppato un'applicazione che in qualche modo permette di comunicare in tempo reale con diversi utenti che si collegano. Quindi se vogliamo un premetaverso dove non ci sono gli avatar, ecco che si parlano, però più utenti possono collegarsi alla stessa applicazione e condividere file 3D che provengono dalla progettazione direttamente appunto dal sistema CAD e quindi senza necessità di un intervento manuale che producesse questi file e quindi aggiungere note di revisione e annotazioni che poi possono essere condivise e discusse con i progettisti in seguito alle riunioni. Quindi un modo per discutere e condividere i risultati di progettazione sia all'interno che con personale esterno all'azienda come appunto clienti e fornitori. E quindi questo per prototipizzare più rapidamente e ridurre i costi anche di prototipi fisici. Vediamo invece una volta che il prodotto è stato progettato e deve essere venduto sul mercato e quindi presentare il prodotto in un modo innovativo è sicuramente essenziale. E qui portiamo il caso di Ikea che quindi ha digitalizzato completamente tutto il catalogo prodotti e permette di visualizzare il catalogo in realtà aumentata. Questo permette al cliente finale di posizionare il proprio arredo in realtà aumentata in scala reale nel proprio ambiente. Quindi vedere il prodotto direttamente a casa propria per vedere come sta ed evitare errori di acquisto legati alle dimensioni o a incongruenze rispetto a quella che può essere una visione limitata data da una semplice immagine che rappresenta la descrizione del prodotto su un e-commerce. E quindi questo pensiamolo applicato anche in ambito industriale. Come diceva prima anche Luca, alle fiere o alla creazione di un catalogo digitale di prodotti che permetta alla forza vendita di facilitare la condivisione con cliente di quelli che sono tutte le varianti di prodotto. Non vi ho citato gli strumenti con i quali è possibile fruire della realtà aumentata, però sicuramente il più diffuso è proprio lo smartphone e i tablet. Quindi attraverso la fotocamera e una semplice applicazione o anche direttamente da interfaccia web è possibile fruire di questo tipo di esperienze. Alternativamente sono disponibili dei visori specifici che permettono di visualizzare oltre alla realtà appunto la sovrapposizione di elementi digitali. Questo quindi abbiamo visto il caso di un catalogo prodotto aumentato, quindi un prodotto che non c'è e viene posizionato nell'ambiente, ma si può fare di più e quindi si può andare a sovrapporre su un prodotto fisico delle animazioni, delle aggiunte di informazioni che permettono di rendere animato il prodotto e di spiegarlo in modo molto più interattivo e immersivo. Quindi immaginiamoci in questo caso per esempio a una fiera, un prodotto che è statico, non può essere messo in funzione e quindi invece in questo caso lo rendiamo molto interattivo spiegando le funzionalità dell'automobile, la scheda tecnica in un modo estremamente grafico immersivo che permette anche di creare una memoria, un impatto sul cliente e sul visitatore e quindi avere anche una spiegazione effettivamente molto più chiara che una lista di funzionalità, di schede tecniche che poi devono essere in qualche modo interpretate e ancora una volta possono causare un errore di interpretazione da quello che è il mondo digitale, quindi un video per esempio a quello che è il mondo reale. E quindi in questo caso attraverso un tablet, anche qui potendo dotare sia la forza vendita che rilasciare un'applicazione pubblica perché tutti i clienti possano magari in futuro acquistarsi e configurarsi un'auto in realtà aumentata direttamente nel loro garage. Ma pensiamo invece alla parte più leggera di questa applicazione che è addirittura l'utilizzo della realtà aumentata direttamente da browser, quindi integrare questa tecnologia all'interno del proprio sito web permettendo di visualizzare il prodotto in realtà aumentata ma anche in 3D, quindi direttamente nel browser. E quindi la stessa esperienza è fruibile sia su dispositivi desktop che anche su dispositivi mobile permettendo di posizionare come abbiamo visto prima, proprio l'oggetto dell'e-commerce piuttosto che il prodotto che vogliamo promuovere nell'ambiente del cliente, quindi previsualizzarlo prima ancora di poterlo, di doverlo acquistare. In questo caso vediamo lo specchietto di una moto e quindi è possibile analizzarlo e vedere tutte le sue dimensioni in scala reale prima ancora dell'acquisto. Passiamo in ambito produttivo, quindi l'utilizzo della realtà aumentata come nuova interfaccia, un nuovo modo di accedere alla macchina e quindi contestualizzare tutte le informazioni che provengono dal sistema centrale, quindi dalla centralina, dal PLC dell'impianto produttivo e quindi visualizzare dati che provengono dal cloud, quindi dati di efficienza e ancora istruzioni legate alla sicurezza o alla manutenzione o tutte quelle procedure che in genere sono raccolte in un manuale molto verboso e come dire anche di difficile comprensione o sicuramente non immediata che deve essere spesso anche tradotto in numerose lingue. Ecco qui che abbiamo invece una visualizzazione del dato istantanea contestualizzata direttamente sul componente o sulla parte che è di interesse e quindi è possibile sovrapporre tutti i dati raccolti tramite IoT o tramite altri tipi di sistemi e quindi incrociare tutti i dati dell'azienda direttamente sulla produzione. Nello specifico un'applicazione molto interessante è quella della manutenzione, quindi portare delle istruzioni step by step che guidano l'operatore sulla macchina nella risoluzione di un malfunzionamento o nella riparazione di un guasto codificato o ancora nelle procedure di installazione di un nuovo macchinario e quindi permettendo di ridurre fortemente l'errore e di guidare step by step la procedura di intervento. In questo caso vediamo un operatore che effettua una procedura di manutenzione per la sostituzione della calandra su una linea di produzione e quindi vediamo come sia gli strumenti che i componenti stessi della macchina vengono evidenziati animati sovrapponendoli all'area in modo estremamente fedele grazie alla corrispondenza univoca con il software di progettazione 3D e quindi proprio a partire dal 3D vengono fatte queste istruzioni codificate perché poi possono essere distribuite direttamente con la macchina quindi non vendo più il manuale diciamo non fornisco più la macchina con un manuale cartaceo ma fornisco lo strumento quindi il visore la tecnologia di visualizzazione che poi verrà continuamente aggiornata e di cui il cliente finale stesso potrà usufruire portando numerosi vantaggi sia in termini appunto di riduzione dell'errore e dei tempi di intervento ma anche una riduzione del mio costo perché sicuramente riceverò meno richieste di intervento di assistenza nella fase magari iniziale di setup e ancora di garanzia oppure offrendo io un servizio estremamente avanzato e quindi potendo aumentare quelli che sono gli introiti proprio dalla parte di service grazie a uno servizio molto più efficiente che permette anche a una mano d'opera meno formata o specializzata di poter intervenire da remoto riducendo di molto la parte anche di trasferte quindi questo lo vediamo per guasti estremamente codificati procedi di manutenzione precise nel caso in cui non ci sia una premeditazione dell'azione da fare si adotta la realtà aumentata per l'assistenza remota che consiste in una chiamata audio video che permette di scambiare informazioni e aggiungere annotazioni alla realtà e quindi di facilitare la comunicazione anche in questo caso ma utilizzando delle annotazioni che non devono essere pensate prima quindi essendo real time non ho nessun tempo e costo di sviluppo anticipato chiudo lasciandovi con una suggestione rispetto a quello che secondo noi potrebbe essere un metaverso guidato non solo dalle tecnologie di realtà virtuale quindi tecnologia oggi più diffusa e considerata promettente rispetto all'ambito metaverso ma un esempio legato alla realtà aumentata per il metaverso quindi quello che dicevo prima l'utilizzo di un nuovo modo di visualizzare le informazioni che quindi non può essere più lo schermo ma direttamente una lenta contatto, un occhiale e quindi vediamo in questo caso una città quindi una città che può essere una città normalissima dove però le persone camminano e fruiscono di un'esperienza in un modo estremamente innovativo e quindi con la sovrapposizione di moltissime informazioni digitali anche se vogliamo costringenti e opprimenti ma questo per esempio è un video dimostrativo però che sovrappone una serie di informazioni digitali in un supermercato standard, classico quello che potrebbe essere un supermercato di oggi e permette di avere una shopping list digitale virtuale di avere degli assistenti alla spesa e di soprattutto lato marketing e pubblicità avere delle pubblicità assolutamente molto più innovative, interattive sul singolo prodotto e anche customizzate sul singolo utente quindi per un'esperienza utente è sempre più personalizzata come potrebbe essere questo yogurt che ha un marketing che non è una sola etichetta ma è proprio un'esperienza in realtà aumentata che permette di dare più coinvolgimento rispetto al cliente ecco adesso il video simula un hackeraggio, un malfunzionamento e quindi a breve vedremo quello che è la situazione reale quindi quello che è lo store nella realtà e non quello che viene visto con gli occhi di un filtro in realtà aumentata e quindi vedremo un supermercato normale un supermercato come quello che siamo abituati a vedere ma con la differenza che attraverso una lente a contatto piuttosto che un occhiale molto sottile è possibile sovrapporre tutte queste informazioni quindi stravolgere l'esperienza utente rispetto a quello che siamo abituati un'esperienza che per qualcuno potrebbe essere anche impattante troppo impattante per cui per noi sicuramente forse per tutti quelli che sono in questa sala ma le nuove generazioni chi si sta avvicinando a questo mondo lo aspetta forse se lo attende quindi non pensate sempre in prima persona rispetto a questa esperienza che per certi versi è inquietante ma è stimolante per un altro tipo di generazione per chi vuole usufruire di quegli stimoli che sono addirittura in certi casi troppo forti per chiunque di noi assolutamente io stesso non vorrei fare la spesa con tutta questa pubblicità però per esempio questa è appunto quello che è un'esperienza girata su un supermercato reale con semplicemente dei cartelloni diciamo che al posto di essere i cartelli pubblicitari di oggi sono dei marker che vengono poi riempiti con chi paga di più per la pubblicità più interattiva io preferisco il Bennett ancora assolutamente quindi su questo per lasciarvi una riflessione anche chiaramente ai temi di cosa è giusto, cosa è sbagliato sicuramente adesso qualcuno ci darà una risposta più approfondita grazie Simone, grazie mille le domande poi vi ricordo le faremo in coda passiamo da un metaverso consumer ai dati che provengono dalle macchine quindi facciamo veramente un triplo salto mortale con Luca Spampinato di Device che ci parlerà appunto di come i dati parlino tutto va? eccoci allora come avete capito benissimo anche perché è stato citato molto molto a proposito più volte in realtà qualunque forma di metaverso realtà aumentata, realtà virtuale e peraltro ognuna delle possibili interpretazioni della parola metaverso si basa su una rappresentazione digitale delle entità che sono poi visualizzate manipolate eccetera quindi quello che si chiama un digital twin quindi adesso parliamo molto brevemente di digital twin siccome è la tecnologia che sta dietro la scena è naturalmente noiosissima rispetto alle meraviglie che abbiamo visto fino adesso e quindi cercherò di stare il più stretto possibile però è uno sporco lavoro qualcuno deve pur farlo e la tecnologia del digital twin si può strutturare diciamo così su tre livelli che riguardano esempi che abbiamo proprio sentito nominare allora il primo livello è quello per esempio del catalogo di Ikea lì si tratta di rappresentare digitalmente degli oggetti anche magari complessi anche potenzialmente interagenti tra loro con incastri e combinazioni ma sostanzialmente passivi quindi anche per esempio il canyon opportunamente digitalizzato è quello è stato digitalizzato una volta o modellato una volta e poi si naviga in modo estremamente interattivo però quello che è interattivo è la navigazione il secondo tipo di digital twin di cui possiamo parlare e che richiede una tecnologia specifica per essere realizzato è il caso in cui l'oggetto che si vuole col quale si vuole interagire in realtà produce dei dati e quindi la rappresentazione digitale è continuamente aggiornata con questi dati che vengono generati dal digital twin cioè dal non digital twin cioè dall'oggetto fisico io adesso qui sto considerando un esempio che è molto simile a quello che citava Luca del monitoraggio della ferrovia stiamo parlando di un caso reale che abbiamo trattato che sono smart city quindi apparati di illuminazione per esempio stradale di controllo parcheggi di controllo energetica gestione energetica gestione rifiuti eccetera tutti oggetti che sono sensorizzati quindi producono anche grande quantità di dati e con i quali si vuole interagire in vari modi tendenzialmente le applicazioni più di base sono appunto quelle di IoT che servono a fare monitoraggio e controllo su queste si può anzi ultimamente sempre più spesso si montano poi delle modalità di interazione che spostano l'applicazione nel metaverso la cosa molto importante da notare è che i dati che compongono poi un digital twin quindi la rappresentazione digitale con la quale si va davvero a interagire virtualmente e tramite quegli strumenti fisicamente qui la cosa interessante la fisicità è là e la fisicità è qua perché si agisce fisicamente l'operatore agisce fisicamente con con degli oggetti che poi a loro volta sono rappresentati digitalmente e rappresentano digitalmente altri oggetti fisici remoti questo è il concetto di digital twin e quando appunto l'oggetto produce dati questi molto spesso sempre devono essere combinati con dati che arrivano da diverse sorgenti perché per esempio i nostri apparati di illuminazione devono essere modellati ma hanno anche tutta una componente amministrativa per esempio hanno una componente ingegneristico modellistica e appunto diciamo di amministrativo è il giusto termine per cui ci sono dati che non stanno nell'oggetto nell'apparato di illuminazione così come non stanno effettivamente nell'impianto che stiamo monitorando ma stanno nei database dell'azienda che li ha costruiti nell'azienda che li gestisce dell'azienda che produce servizi quindi tutti questi dati devono essere integrati in modo che la rappresentazione digitale sia vivida sia non solo aggiornata in tempo reale ma anche diciamo completa rispetto a tutti i dati che servono per esempio per la realtà aumentata per poi presentarli sulla realtà aumentata io devo sapere che livello di servizio devo erogare su quel componente per sapere se devo intervenire in modo diciamo casereccio se la vacca quasi basta oppure devo fare una vera e propria manutenzione e questo diciamo è la base del digital twin c'è un livello ulteriore che è quello che in molti casi le entità che si stanno modellando digitalmente subiscono delle trasformazioni di stato queste trasformazioni di stato possono venire molto spesso centralmente cioè io sto monitorando una rete appunto idraulica in questo caso sto monitorando una città con illuminazione e devo decidere le regole di accensione e spegnimento di queste luci quindi una diciamo configurazione che viene dal centro che viene dall'operatore magari lo farò toccando uno dei dispositivi virtualmente rappresentati nel mio metaverso ma di fatto sto facendo un cambio di stato dell'oggetto fisico e quindi lo faccio sull'oggetto digitale che poi si occuperà tramite tecnologia IoT di comunicarlo all'oggetto fisico però molto spesso sempre più spesso in realtà i cambiamenti di stato possono essere generati da configurazioni locali remote per dire gli operatori che aggiustano i sistemi di illuminazione fanno delle riconfigurazioni dinamiche degli apparati di illuminazione lo stesso è vero ancora di più con qualunque apparato industriale c'è la configurazione dell'intero processo e la configurazione della singola macchina che magari è modificata opportunisticamente da un operatore locale naturalmente questa stessa cosa è ancora più evidente quando siamo davvero in un modello di metaverso dove non c'è un operatore ci sono n operatori che poi possono collaborare tra loro giocando in un gioco fantascientifico oppure possono collaborare essendo diversi operatori in un ambiente industriale che svolgono compiti diversi e ciascuno di loro agisce sullo stato dell'entità quindi c'è questo problema assincronicamente cambia lo stato e quindi quello che io rappresento poi per tutti gli operatori il controllore nel caso di una smart city ma nel caso di metaverso tutti quelli che partecipano diciamo così al gioco ha questo problema cioè questi cambiamenti di stato asincrono possono causare fluttuazioni deadlock i tipici problemi poi dell'informatica e quindi quello che è necessario fare in questi casi quindi per questo terzo livello diciamo di digital twin abbiamo detto il primo livello è oggetti sostanzialmente modallati una volta per tutti e navigati ma sostanzialmente statici secondo livello è oggetti che ricevono dati dal campo e quindi presentano un'evoluzione di dati uno stato aggiornato dinamico ma sostanzialmente non influenzabile quindi che si vede solo e invece oggetti fisici che possono subire configurazioni asincrone e indipendenti da sorgenti multiple in questo caso è necessario sincronizzare tutte queste attività con un componente specifico noi ne abbiamo realizzato uno che abbiamo recentemente pubblicato open source che quindi può essere utilizzato da chiunque poi sarò lieto di dare le indicazioni a chi interessa e che permette appunto di modellare il modo in cui le diverse configurazioni potenzialmente in conflitto devono essere sincronizzate in modo tale che la rappresentazione del digital twin sia sempre coerente e permetta esattamente le cose che avete visto prima diciamo essere fatte direi che mi fermo qua perché è sufficientemente esatto Luca aveva tantissime altre slide ma andavano ancora più a fondo rispetto all'argomento abbiamo detto se qualcuno magari è interessato poi a Latare se ne può parlare naturalmente però il tema del palco che vi trovate qui davanti rispecchia un po' quello che noi facciamo con la Next Innovation per cui come Comunix siamo in grado di costruire un progetto partendo dalle basi quindi dal campo che genera dei dati per portarlo poi in una rappresentazione grafica con la realtà aumentata e la realtà virtuale delle aziende che potrebbero comporre un team che va a lavorare per portarvi all'interno del Digital Twin quindi questo è un palco che rappresenta un po' le tecnologie all'interno di Comunix che possono sviluppare un progetto di Digital Twin e che vi possono aiutare nel metterlo a terra e nel creare tutta questa esperienza a meno che però l'avvocato ci dica che non sia possibile farlo però qualcuno ha detto usti ho sentito bene no non ci preoccupiamo quindi ora diamo la parola all'avvocato per introdurci sui temi grazie ed è un avvocato creativo perché usa canvas per cui dobbiamo passare il volume era ancora comunque perché canvas ormai è superato abbiate pazienza ok allora buonasera a tutti e a tutti benvenuti e grazie a Confindustria Comunix per aver reso possibile l'incontro di oggi come avete sentito mi chiamo Alessandra Vitagliano sono un avvocato ho lavorato per tantissimi anni per aziende di piccole e medie dimensioni ma anche per multinazionali prima come legale interno e poi come consulente legale mi sono specializzata in contratualistica internazionale e nazionale e in proprietà intellettuale nell'ultimo periodo da quando diciamo mio figlio è diventato un po' più grosso anche più grande ma è anche grosso di tecnologia perché lui rappresenta il mio boom il mio guru è lui che mi ha fatto scoprire il metaverso perché è così importante parlare oggi di metaverso l'abbiamo visto è al centro dell'innovazione molto si è sviluppata la realtà virtuale molto si è sviluppata la realtà aumentata ma poi anche perché il metaverso costituisce un vero e proprio ecosistema un ecosistema economico non sappiamo ancora come si svilupperà il metaverso in futuro però sappiamo che darà lavoro ad un numero sempre maggiori di persone e quindi come il sistema economico deve essere in qualche modo disciplinato per darvi un'idea dell'importanza del metaverso vi faccio due esempi sono stati citati prima i videogiochi il metaverso nasce un po' dal videogioco c'è un gioco in particolare di cui voglio parlarvi che si chiama Fortnite Fortnite è un gioco che non si basa su blockchain ma è un gioco a cui alla fine del 2022 erano iscritti 350 milioni di utenti con un'età media diciamo dai 9 ai 12 13 anni perché porto questo dato perché quando io mi sono avvicinata al metaverso mi sono accorta che all'interno di questo mondo c'erano i brand più famosi e anche in contrasto tra di loro in concorrenza tra di loro brand che comunque volevano essere all'interno di quel mondo lì perché riuscivano per la prima volta a raggiungere un target mai raggiunto prima appunto questi ragazzi così giovani presenti nel metaverso anche se a differenza di quanto succedeva prima devono essere disposti a scendere dei compromessi per esempio devono essere disposti a firmare dei contratti di licenza per l'uso del marchio all'interno da parte della piattaforma molto lunghi cioè dei contratti di licenza quasi senza scadenza perché nel momento in cui io all'interno del metaverso acquisto o faccio delle esperienze ho dei dati che diventano miei e io voglio ottenerli voglio rivederli tutte le volte che mi ricollego al metaverso quindi se io compro per esempio attraverso il gioco o vinco uno zaino della Nike è bene che tutte le volte che io ci acceda possa rivedere quello che ho acquistato quello che ho comprato perché hanno dovuto scendere anche dei compromessi perché hanno dovuto accettare anche delle finestre di marketing che si sovrappongono l'una all'altra brand in concorrenza tra di loro che vivono insieme la stessa esperienza come la vivono attraverso gli avatar gli avatar sono questi personaggi sono l'alter ego degli utenti che sono presenti in questo gioco magari indossando le scarpe di LeBron James la maglietta di Michael Jordan o ancora lo zaino della Nike mentre girano per le Stark Industry mentre tengono in mano il martello di Thor quindi capite quanto sia diverso il modo di comunicare e di fare brand rispetto al passato ma altra cosa fondamentale questi brand hanno dovuto anche accettare di essere non più i protagonisti della loro narrazione una caratteristica del metaverso è infatti quella di consentire agli utenti di non essere più soggetti passivi ma soggetti attivi e quindi insieme al brand costruiscono lo storytelling del brand stesso in Cina il governo cinese ha considerato il metaverso come la chiave di sviluppo delle aziende per i prossimi anni dal 2000 ha varato un piano gigantesco il governo cinese per gli anni 22 e 26 e ha appunto individuato ha stanziato milioni di dollari per consentire alle aziende di svilupparsi in questa direzione immagino che conosciate ByteDance ByteDance è il creatore di TikTok ByteDance ha compratto una società americana di San Francisco che si chiama Pico una start up leader nello sviluppo della realtà aumentata e virtuale perché l'intenzione di ByteDance è quella di Pico quindi è quella di fare in modo che il metaverso e tutte le tecnologie che consentono di accedere al metaverso siano disponibili ad un numero sempre maggiore di persone Passiamo ora alla definizione di quello che è il metaverso la definizione che io do di metaverso per me il metaverso ha quattro caratteristiche fondamentali che sono l'interattività la persistenza l'immersività e l'interoperabilità la persistenza ne abbiamo parlato prima ogni volta che io spengo il mio computer perché al metaverso si può accedere in diversi modi attraverso il computer attraverso lo smartphone sono tutti hardware che mi consentono di accedere al metaverso ma posso accedervi anche attraverso i visori come abbiamo visto prima ogni volta che io spengo e riaccendo questi sistemi voglio ritrovare i dati che avevo prima quindi è persistente per questo motivo ma è anche interattivo quindi vado nel metaverso per essere protagonista di una storia e tra l'altro queste piattaforme di gioco sono diventate così importanti e impregnanti che influenzano la cultura di massa ecco perché comunque i brand vogliono esserci di sopra vogliono esserci nel metaverso sono anche immersivi se poi avrete la possibilità di provare i visori vi renderete conto di che cosa significa questa cosa una volta che voi siete nel metaverso il vostro cervello vi dice che siete realmente lì dentro e soprattutto è interoperabile o almeno questo sono appunto i desiderata come avete sentito prima cioè quello che si vorrebbe che si realizzasse nel futuro dovete immaginarvi un po' il metaverso come un unico mondo virtuale all'interno del quale ci sono tante piattaforme ognuna di queste piattaforme ha uno scopo diverso ci si accede per fare delle cose diverse l'interoperabilità consentirà di far passare dati da una piattaforma all'altra cosa che ora non è possibile ma anche perché ci sono per esempio i big della tecnologia che operano appunto nel metaverso che si oppongono un po' a questa cosa perché perderebbero il loro monopolio da un altro punto di vista dall'altro lato però esistono delle società e dei consorzi di società che stanno cercando di sviluppare degli standard comuni degli standard sono dei file aperti che consentono alla piattaforma di adottarli per consentire l'interoperabilità questo consorzio nello specifico si chiama metaverso standard forum standard forum abbiamo visto che il metaverso è anche un conglomerato di tecnologie tecnologie vecchie tecnologie nuove abbiamo gli smart contract la blockchain abbiamo gli IOT gli internet of things tutti i sistemi questi peraltro che consentono di raccogliere come abbiamo appena visto un numero enorme di dati alcuni di questi dati sono dati sensibili e a questo punto la domanda è come faccio io a regolare questi dati ci sono già delle norme per esempio noi per il trattamento di alcune norme di alcuni dati possiamo utilizzare quello che è il GDPR quindi la norma sulla privacy in alcuni casi le norme possono essere applicate così come sono altre volte invece dovranno essere adattate altre volte ancora invece si dovrà evitare di usare queste norme per il metaverso per evitare di ingabbiare la tecnologia e quindi in futuro occorrerà trovare il giusto equilibrio non dobbiamo pensare però che ciò che succede nel metaverso non abbia riflessi nella vita reale per esempio ci sono dei reati che possono essere commessi anche all'interno del metaverso pensate all'adescamento di minori le minacce ma anche la violazione dei diritti di proprietà intellettuali a proposito vi porto un caso è capitato che un utente facesse una denuncia alla piattaforma perché all'interno di questa piattaforma il suo avatar sia stato palpeggiato da un altro avatar allora cosa è capitato succede anche questo cos'è successo allora non c'è fisicità in buona sostanza perché questo sistema questo software non prevede non siamo ancora arrivati a questo sviluppo tecnologico della sensibilità cioè se il mio avatar viene palpeggiato io non mi rendo conto non è che palpeggiano me che sono fuori d'accordo quindi certi reati per la legge non possono essere puniti perché mancano di materialità però la piattaforma cosa ha fatto per evitare problematiche ha fatto in modo che venisse che ci fosse l'opzione per gli avatar quando si sentono in difficoltà di inserirsi all'interno di una bolla questa bolla tiene a distanza gli altri avatar quindi evita il contatto fisico non contenta la piattaforma ha fatto un passo in avanti e ha messo di default quindi obbligatoria la distanza di un metro e mezzo tra un avatar e l'altro quindi questi avatar più di tanto non si possono avvicinare cosa mi porta a dire tutto questo che per il futuro sarà fondamentale non soltanto il legislatore ma la collaborazione tra le istituzioni e le piattaforme per esempio adottando dei termini e delle condizioni che siano molto chiare sul comportamento che si deve tenere all'interno del metaverso oppure adottando delle procedure di denuncia facile dei reati o ancora adottando dei sistemi di risoluzione delle controverse diversi da quello che può essere il tribunale questi sistemi di soluzioni delle controverse esistono già probabilmente verranno allestiti tra virgolette all'interno del metaverso e consentiranno di risolvere anche queste problematicità ma senza dubbio sarà importante anche la cultura degli utenti cioè dovranno essere un po' istruiti gli utenti che accederanno al metaverso per evitare quelli che vediamo già oggi che vengono soprannominati diciamo così leoni da tastiera quindi non è che nel metaverso è concesso tutto quanto anzi questi sono tutti obiettivi però che l'Unione Europea ha bene in mente non peraltro come faccio a tornare indietro così non peraltro grazie si sta varando una serie di regolamenti che consentano lo sviluppo di queste tecnologie e che consentano lo sviluppo delle tecnologie per tutti quanti per tutti quanti dico i privati quindi il singolo essere umano ma anche le PMI per esempio adottando delle modalità di accesso alle piattaforme facilitate o comunque che non prevedano condizioni così restrittive o così pregnanti da impedire alle start-up e alle PMI di accedere a questi mondi e quindi di svilupparsi cosa volevo dirvi di questa cosa che mi sono dimenticata mi sono distratta non mi ricordo più comunque quindi quello che è da tenere presente è che effettivamente l'Unione Europea si sta già muovendo in questa direzione e da un certo punto di vista siamo avvantaggiati perché il metaverso non si è ancora sviluppato completamente mentre l'Unione Europea si sta già muovendo basta vedere anche con il regolamento sull'intelligenza artificiale che è stato emanato settimana scorsa quindi progressi l'Unione Europea sa bene ha bene in mente quello che sta facendo e in futuro insomma secondo me vedremo degli sviluppi molto positivi cosa succede in Italia abbiamo visto realtà virtuale realtà aumentata quello che mi preme sottolineare come dal mio punto di vista è che questi progetti sono bellissimi però nel momento in cui create dei gemelli digitali che a volte sono metaverso a volte non lo sono sarà bene che voi proteggiate le vostre informazioni confidenziali perché è vero che nella maggior parte dei casi si tratta di sistemi chiusi di sistemi a cui accedono soltanto le persone che voi decidete di far accedere ma comunque condividete magari il vostro know-how magari condividete i vostri segreti commerciali che avete fatto fatica a raccogliere nel corso degli anni e che costituiscono per voi un patrimonio inestimabile cioè è un elemento di quelli che costituisce per le aziende un vantaggio competitivo sul mercato quindi prima di far accedere a queste realtà a questi gemelli digitali qualcuno anche se si tratta del dipendente che deve fare il training prima di essere messo sul campo ebbene fargli firmare degli NDA del non disclosure agreement cioè degli accordi di segretezza vi faccio ecco qui inquadro l'hardware ma vi volevo soffermarmi un attimo sul software esistono tre tipologie di software software proprietari di solito vengono sviluppati dalle grandi piattaforme come può essere Apple software invece dati in licenza ma a quel punto bisogna pagare delle royalty e software invece open source nel secondo caso quindi nei software dati in licenza e nel software open source è bene guardare cosa dicono le condizioni di contratto per non trovarsi poi in difficoltà nel momento in cui vengono utilizzati tra parentesi attenzione che nel nostro ordinamento il software è protetto dalla legge sul diritto d'autore in altri ordinamenti invece il software è protetto dal brevetto quindi le condizioni sono diverse due esempi velocissimi su realtà virtuale e realtà aumentata la VURT ha creato un gemello digitale attraverso il quale fare assistenza da remoto ai propri clienti un po' come avete visto quindi mi collego col computer attraverso il visore vedo quali sono le istruzioni direttamente sul visore e riesco a risolvere il problema cosa ha fatto la VURT ha fatto un upgrade anche del suo brand perché in questo modo ha comunicato al pubblico che non solo agisce subito non perde tempo e c'è un risparmio sotto tanti punti di vista ma c'è un risparmio anche di tempo perché il tecnico non deve prendere la macchina per spostarsi da dove si trova per arrivare a destinazione quindi se io non prendo la macchina vuol dire che arrivo prima possono essere immediatamente operativo ma vuol dire anche che non inquino quindi VURT è anche un brand che sta attento all'ambiente in questo modo ha aumentato la percezione che il brand ha sul mercato inoltre ha istituito ha creato un metaverso all'interno del quale accedono i clienti che hanno bisogno di assistenza questo metaverso in questo metaverso i clienti sono assistiti da avatar avatar che possono essere i dipendenti della stessa VURT che pure possono essere avatar creati dall'intelligenza artificiale nel momento in cui un avatar non è disponibile per fare l'assistenza perché magari è impegnato con altri clienti il cliente che si trova nel metaverso può andare a vedere la mostra d'arte che è stata allestita può andare nella sala cinema a guardarsi il film oppure può andare a teatro e passare il tempo in attesa che arrivi l'avatar per dargli assistenza anche in questo caso c'è stato un upgrade del brand ultima cosa Eni ultimo esempio Eni ha in programma di sviluppare un progetto di fusione magnetica non mi chiedete cos'è perché io non ne ho idea però è un progetto che questo mi ha colpito che potrà trovare luce potrà essere realizzato concretamente soltanto nel 2050 per poterlo realizzare però cosa bisogna fare avere dei finanziatori quindi come faccio a far capire come faccio a far capire ai miei finanziatori le potenzialità di questo progetto glielo faccio vedere attraverso la realtà virtuale glielo faccio vedere in questo modo glielo faccio capire allora l'ultima cosa veramente l'ultima e poi vi lascio a qualcosa di meglio del mio racconto credo che non possiamo far finta di niente cioè siamo già circondati dalla tecnologia non la si può ignorare quello che dal mio punto di vista si può fare è capirla conoscerla prendere le conoscenze che abbiamo smontarle unirle con le nuove tecnologie e cercare di inglobare queste tecnologie all'interno dell'azienda bisogna avere però un progetto di sviluppo perché quello che va bene per me non è detto che possa valere andare bene per altre aziende certo è che non si può fare finta di niente e di sicuro ci vuole la collaborazione di più figure professionali dagli sviluppatori dai designer ma anche da chi come me si occupa di legge perché i miracoli non li fa nessuno meglio quindi prevenire piuttosto che arrivare quando magari è troppo tardi quindi viva la tecnologia perché a volte è veramente più una questione culturale che una questione tecnologica in sé grazie 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 mille avvocato il primo intervento di un avvocato in cui non ho sentito nominare neanche un articolo di legge incredibile assolutamente anche e soprattutto di marketing mi sembra di capire e lascio a questo punto a voi delle domande delle considerazioni rispetto a quello che è stato detto il prossimo passaggio come si diceva è quello di andare nel bar di Comunex quindi all'ingresso per poi salire nel piano superiore perché DKR ci ha messo a disposizione le tecnologie per farvi entrare nel metaverso in un metaverso e sperimentare un po' le tecnologie soprattutto di realtà virtuale rispetto alle altre e avrete la possibilità di vedere i video 360 di immergervi all'interno di un canyon e vivere questa esperienza unica oltre ad assaggiare l'aperitivo che ci è stato predisposto sono tutte tematiche molto interessanti forse non relative alla sessione di oggi comunque sono temi che dobbiamo affrontare per cui i server sono stati installati per esempio sotto il mare per questioni di risparmio energetico sono stati portati in Scandinavia al nord dove ci sono temperature molto basse per evitare di consumare in termini di raffreddamento di quelle aree sono tutti temi assolutamente validi e che potremmo affrontare in un altro contesto in questo contesto quindi nel tema del metaverso e delle tecnologie ricordiamoci che queste non sono tecnologie che ancora sono definite sono state costruite e che forse ci permetteranno anche di risparmiare a livello energetico perché non saremo più costretti a muoverci e quindi ad utilizzare la macchina forse saranno metodi per migliorare la progettazione quindi risparmiare materiali e quindi essere molto più efficienti ed efficaci nella progettualità forse ci permetteranno attraverso la manutenzione predittiva di interrompere la produzione quindi di generare costi ulteriori e quindi di risparmiare rispetto a un investimento che si è fatto a livello di progettazione di quella macchina per cui questi sono dei modi in cui la tecnologia può venire incontro a quelle tematiche di energia senza andare a toccare che è un mio cavallo di battaglio la macchina elettrica ma questo è un altro contesto ma ci sono tutte delle tecnologie il modo in cui le andremo ad utilizzare ovviamente dipende da noi dipende dalla regolamentazione dipende dalla comunità europea da come noi intendiamo guidare questa evoluzione come noi intendiamo risparmiare e salvare anche il pianeta su cui siamo comunque sono tutte considerazioni rilevanti la tecnologia ovviamente su questo palcoscenico è in soccorso non è un problema e per cui tutte queste tematiche se vogliamo affrontate con noi possono essere risolte per cui c'è un problema di BIM ci sono all'interno di Comonext delle aziende che sviluppano progetti di BIM e sono a supporto delle aziende che sono in difficoltà rispetto a quei progetti ci sono problemi energetici ci sono aziende all'interno di Comonext che possono portare valore rispetto a quelle dinamiche e fornire supporto per capire com'è possibile intervenire mettendo pannelli mettendo delle nuove tecnologie a disposizione per risparmiare per rendere questo mondo un po' più bello rispetto a quello che è giusto grazie molto interessante soprattutto sull'ambito del manufacturing una domanda riguardo a quelli che voi vedete come fattori critici di sviluppo cioè quali sono i fattori per cui queste tecnologie che stanno entrando nell'azienda che in qualche modo si stanno anche trovando un loro spazio quali sono i fattori per cui veramente si possono come dire diventare un fattore critico anche di successo faccio un esempio una delle problematiche legate anche all'utilizzo dei visori è che c'è un problema fisiologico cioè che più di tanto non si riesce a tenerli soprattutto poi ci sono persone che hanno una particolare difficoltà allora e quindi ci sono anche dei fattori legati proprio allo sviluppo della tecnologia e del device altri legati alla velocità e alla capacità di ecco quali da questo punto di vista saranno gli elementi che all'avverarsi del quale possiamo vedere una curva di incremento molto più rapida nell'utilizzo grazie grazie della domanda chiarissima dunque sicuramente il principale fattore di criticità che rileviamo dal mercato e questo lo dico perché noi siamo attivi sul mercato dal 2017 quindi non sono tecnologie che devono venire sono tecnologie che già sono presenti e certo che ogni anno che passa cambia il livello di interazione però sostanzialmente il principale fattore di criticità è proprio la mentalità delle aziende e l'organizzazione delle aziende questo perché perché come abbiamo visto per esempio la realtà aumentata è un nuovo modo per visualizzare le informazioni però prescinde una riorganizzazione delle persone una riorganizzazione dei ruoli e anche dei sistemi che sottostanno come abbiamo visto prima a quella che è poi diciamo la punta dell'iceberg che è la visualizzazione dell'informazione cioè faccio un esempio se io non ho un sistema per la gestione delle procedure di manutenzione che non vuol dire manutenzione predittiva o qualcosa di assurdo semplicemente sapere chi deve fare quali procedure in quale giorno e quali sono le procedure che sono state fatte nell'ultimo anno è impensabile e comunque inutile andare ad adottare un sistema di realtà aumentata perché mancano delle informazioni che stanno proprio alla base e quindi diciamo questo gap di informatizzazione digitalizzazione che sta sia diciamo nelle aziende italiane ma assolutamente anche in Europa e anche in America e questo credo l'ostacolo maggiore poi chiaramente ci sono anche dei fattori legati all'hardware della tecnologia ma personalmente non credo che sia questo oggi il fattore critico ecco loro si stanno proprio sforzando per esempio per sviluppare dei visori che non siano pesanti che non facciano venire la nausea visori che presentano diverse funzionalità a seconda poi del costo proprio per dare la possibilità a tutti quanti di sperimentarlo però lo sanno che le problematiche sono queste quindi ci stanno lavorando non siamo ancora arrivati ad un livello tale da però comunque altra cosa tanti vecchi lavori verranno a perdersi non ci saranno più però l'intelligenza artificiale diciamo che il desiderato per il futuro è quello di far fare per esempio l'intelligenza artificiale quei lavori che sono di rutina che sono noiosi per le persone o che sono troppo stancanti quindi per con l'obiettivo di consentire alle persone di avere più tempo per fare le cose che gli piace fare capito quindi anche il discorso dell'Unione Europea che stavo facendo prima è sì lo sviluppo di queste tecnologie ma non si dimenticano mai di emanare regolamenti che tengono conto comunque dei diritti dell'uomo quindi sono regolamenti umano centrici vorrei chiedere un commento rispetto alla sicurezza in un'attività che è guidata dalla realtà aumentata perché le potenzialità sono enormi evidentemente però c'è una problematica di istruzioni che io do a remoto e non sono fisicamente presente a supervisionare il lavoro di un operaio di un operaio di un blue collar che magari non è un mio dipendente e non è trainato certo beh dunque io direi la sicurezza mi sembra evidente dal momento che il fatto di poter guidare da remoto in assistenza remota vuol dire che io sono connesso nello stesso momento con una persona sul campo quindi innanzitutto ho la condivisione dello scenario quindi io vedo la stessa cosa che vede lui posso impartire delle istruzioni e quindi in qualche modo ho un maggior controllo della situazione dello scenario sicuramente rispetto a non avere questa tecnologia e quindi a far sì che la persona agisca in autonomia attraverso manuale piuttosto che altri tipi di interazioni quindi senza questo tipo di tecnologia quindi dal mio punto di vista lo vedo invece un valore di maggior sicurezza e anche i dati lo dimostrano su settori come oil and gas macchinari medicali quindi gli interventi sono a minor errore e maggior efficienza di risoluzione quindi seguo i step passo passo che anche se ho magari già fatto spesso o in qualche modo penso di saper fare alla perfezione rischio sempre di incappare in quello che può essere un errore una distrazione che diciamo non è ammessa invece in alcuni scenari estremamente pericolosi quindi da questo punto di vista credo che in realtà sia una maggior sicurezza se intendiamo invece una sicurezza legata al dato la trasmissione delle informazioni questo direi che c'è sicurezza come rischio per tutte le altre cose che sono connesse non era l'ultima domanda ce n'è un'ultimissima sì grazie i vostri interventi di prima per i quali vi faccio i complimenti vanno nella direzione di mostrare che i fornitori di tecnologia sono pronti a erogare lo stack tecnologico su cui basare questa che è sostanzialmente una rivoluzione del mondo del lavoro della manifattura l'avvocato ci ha mostrato che pian piano a seconda dello stimolo poi chi è deputato alla regolamentazione di questi sistemi reagisce secondo quello che è abbiamo una resistenza dovuta al fatto che le aziende non si sono mai preoccupate giustamente perché non ha mai avuto la necessità di mettere via dati per manutenzione predittiva per tante belle cose per cui mi sembra di capire che ci sia una parte dei corridori di questa corsa che è pronto ma quello che chiedo è nella vostra opinione nella vostra nei vostri studi quanto l'industria la piccola media impresa che forma poi il tessuto economico di gran parte d'Italia è pronta a investire in questo tipo di tecnologie a livello proprio mi prendo il rischio e ci credo direi che la piccola industria in questo momento fa un po' fatica ecco ad acquisire o meglio ad adottare queste tecnologie quindi per ragioni diciamo un pochettino strutturali soprattutto ancora oggi diciamo sono carenti di alcune diciamo metodologie alcune tecnologie che magari le aziende un pochettino più grosse più strutturate nella media azienda già sono presenti quindi sicuramente c'è molto da lavorare è stato citato prima l'aspetto è prettamente poi culturale oltre che di chiaramente risorse anche diciamo economiche oggi noi come Comunex ci troviamo spesso siamo coinvolti chiamati nell'andare a fare delle verifiche degli assessment che ci chiedono che cosa possiamo fare per migliorare cosa possiamo fare per affrontare insomma le sfide del mercato tante volte cerchiamo di lavorare più proprio sull'aspetto culturale sul piccolo imprenditore non tanto sulla tecnologia ecco non serve adottare una tecnologia se non si creano le condizioni all'interno dell'azienda per poterla utilizzare al meglio questa tecnologia anzi spesso è controproducente perché poi non dà i risultati che deve aggiungo anche che è un po' il ruolo di Comunex quello di andare a costruire questa cultura nel senso che creiamo eventi come questo quando incontriamo le aziende proponiamo delle soluzioni innovative che trovano riscontro magari partendo con un progetto che scali piano piano nel tempo che porti l'azienda ad innovare introducendo tutte quelle tecnologie che abbiamo visto oggi magari partendo dal marketing e quindi portando l'azienda a conoscere la realtà virtuale per un evento come quello della fiera su cui poi costruire la base da cui partire per creare il digital twin quindi quello è un modo in cui stiamo cercando di portare le PMI verso il digital twin quindi partendo dal marketing sotto cui poi costruire tutti i dati e tutta l'interfaccia per poi ricreare l'ambiente manufatturiero grazie mille quindi ci spostiamo vi ringrazio spero sia stato interessante al prossimo appuntamento grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille